Potenziata in Sicilia la dotazione organica dei mezzi operativi al servizio dei distaccamenti del Corpo dei Vigili del Fuoco presenti nelle nuove province della Regione. Consegnati all'aeroporto palermitano di Bocca di Falco 18 nuove automezzi per soccorsi speciali acquistati dal Dipartimento regionale di protezione civile con fondi comunitari. Nello specifico i mezzi speciali consegnati sono 15 unità scerpa 1200 con modulo da 1000 litri e 3 automezzi Astra con dotazioni polisoccorso. I nuovi mezzi si aggiungono agli 11 pick-up ad altre unità mobili già affidati dalla Regione al Corpo dei Vigili del Fuoco tra il 2008 e il 2010. Alla cerimonia di consegna erano presenti il Governatore della Regione Sicilia Raffaele Lombardo, il Direttore regionale della protezione civile Pietro Lomonaco ed il Capo dei Vigili del Fuoco in Sicilia Giuseppe Romano. È stata l'occasione per ricordare che i Vigili del Fuoco hanno svolto sempre un lavoro prezioso in occasione di emergenze drammatiche come quella di Giambilieri per cui abbiamo un discorso aperto che mi auguro con il riconoscimento dei fondi FAS possa una volta per tutte trovare una definizione che non lascerà quindi ombra nel rapporto di collaborazione, di amicizia ma anche di grande riconoscenza che i cittadini siciliani e il Governo della Regione non può non avere per il Corpo dei Vigili del Fuoco. È una collaborazione essenziale, rinunciabile, fondamentale e strategica, non so come definirla. Diciamo che è un passaggio dovuto, l'unico percorso che ci consente di avere un sistema di protezione civile e di soccorso integrati ed efficienti. I Vigili del Fuoco e noi facciamo parte dello stesso sistema, siamo chiamati a intervenire in caso di emergenza e quindi per noi avere gli strumenti adeguati per poter dare soccorso alla gente è essenziale e in questa logica si inquadra anche questa consegna di mezzi di oggi.